le rime di stasera riguardano a Fontana di San Bastiano Maria Rita è lì bisogna che intervieni tu allora invitiamo Maria Rita a verserci questi versi ho mostrato i versi? sì, versi dai, questi versi queste rime che ha scritto Riccardo allora leggiamo con tutto il piacere scusami se sbaglio qualcosa a Fontana di San Bastiano mezzo tridente tu ci appari che ha gioia nostra e dei visitatori da quanti lusti tu stai lì poggiata sin simbolo importante per questa cittadina amata quante cose si è visto passare da chi lo giorno che t'hanno messo qua si è visto a guerra e a disperazione e a disperazione a povertà e oggi cresce insieme nel tempo t'hanno ristrutturato ma lo fascino tio non è mai cambiato sempre bella, giovine e imponente si è visto crescere generazioni di questa nostra gente da un contadino con il carretto femmine con i conche e uno è lo con il secchietto secoli di storia si è passato da quando Virginio Bracci t'ha creato un pezzo di cuore di questo paese orgoglio tutto genfanese ma se tu cecchiappi uno per uno per noi sei la fontana del fan baschiano bellissima Riccardo io non ho parole allora intanto poi commentiamo tutti insieme ma intanto un commento da parte di Riccardo Riccardo come ti è uscita fuori? io penso che è uscita fuori perché la fontana del fan baschiano per Genzano è un simbolo importante